Tania Ferrucci nasce a Napoli nel 1960, ma per l'anagrafe non è una bambina, è un maschio. E questa è la fonte, anche se non l'unica, dei tanti drammi che segnano la sua esistenza. Un'odissea di violenza e povertà, ma anche una storia di riscatto, quello di una donna che con determinazione e coraggio si è ribellata ad un destino in cui non si è mai riconosciuta. E' nei miei occhi di Tania Ferrucci, il diario vincitore della 36esima edizione del Premio Piede. Tania, che già sente nascere nel suo corpo e nella sua mente il desiderio di diventare donna, inizia a prostituirsi. Dopo aver vagato per mezza Italia, Napoli, Roma, Ascoli, Firenze, riesce a mettere via i soldi per l'operazione di vaginoplastica. A 26 anni, finalmente, diventa donna. Fa la ragazza immagine nei locali della riviera romagnola, ma cade nella tossicodipendenza. Sta male, sempre più male. E nel 1999 viene accolta nella comunità di Saman. Dopo sei anni riesce a liberarsi, per sempre, della droga. Oggi sono contenta, sono fiera, ce l'ho fatta, sono viva e sono libera. Al cantautore e scrittore Francesco Buccini, collegato in videoconferenza della sua pavana, è invece andato il Premio Città di Pieve, quello che ogni anno l'archivio affida ad artisti, cantanti, scrittori e registi che nel loro lavoro usano gli arnesi e gli attrezzi della memoria individuale e collettiva. Ognuno che scrive, o scrive le canzoni, o scrive le basi, ha uno di questi corretti. Il bagaglio, per la sua madre, è più attesa. E il mio bagaglio, evidentemente, è quello che questo appennino, il Tosco di Vignano, che è la mia vita, il mulino di Vignano, che è fatto, la ragazza è donna. Grazie.